La premier britannica Theresa May ha preso le distanze dal suo ex ministro degli esteri Boris Johnson, che ha definito le donne con il burka buche delle lettere e rapinatrici di banche. È chiaro che il linguaggio che Boris Johnson ha usato per descrivere l'aspetto è offensivo, dice la May. Non sono parole che avrei usato, penso che sia sbagliato usare quel linguaggio. Per la premier May Boris Johnson dovrebbe scusarsi, mentre altri nel partito conservatore chiedono che venga espulso. Secondo alcuni analisti Boris Johnson si sta preparando a sfidare la May nella leadership e questa uscita potrebbe essere un modo per avvicinare l'ala destra del partito. In alcuni paesi europei, come l'Italia, è vietato indossare in pubblico dei velli che coprono il volto, ma in Gran Bretagna viene considerato un diritto.